Questa sera andiamo ad Imola per il Waikirace, cambierà una cosa perché è uscita una patch di Formula 1, baggatissima, quindi il problema è dato dal fatto che le auto, anche se metti prestazioni pari, non hanno le prestazioni pari, quindi andiamo con l'auto del multiplayer. Poi, come sempre, qualifiche, gara sprint con le posizioni invertite rispetto alle qualifiche e gara al 50%. E ora, signore e signori, vi presentiamo i più famosi e spericolati piloti che partecipano alla gara senza regole. Il Waikirace, dove ogni espediente è consentito per conquistare il titolo mondiale del Waikirace. Sono sulla linea di partenza. La prima vettura è l'alfa-nomeno dei fedeli moderatori, Bortol e Sam. Successivamente appaiono le alpine dello sportiveggiante quel taleale e del tattico Pulse, che applicherà le sue strategie di assalto alla Rainbow Six. Subito dietro, le Red Bull di Yuri della F1 dimenticata e il ragioniere che tradisce il suo vecchio team Endurance. L'avvocato e Smangri li seguono con la loro Williams. Subentrano poi le Mercedes Dixander e dei fratelli Zero, Mora e Teo. A ridosso abbiamo Mazza e Lagatutto, con le loro Aston Mario Antimalocchio. Quindi le diaboliche Alfa Tauri di Nu e Amos, che cercheremo di azzoppare facendolo girare col joystick del Commodore 64. A breve distanza le Ferrari del diabolico Andrea della F1 dimenticata e Vanessa, l'affascinata ragazza che partecipa alla corsa. Infine le McLaren di Beardat Knight, pilota dalla compostezza proverbiale, e il suo compagno di corso del talentuoso Tonio, che avrà come obiettivo arrivare a traguardo senza girarsi. Ma attenzione, lo starter dà il via! Ma che succede? I piloti non si muovono! È un infame trucco di The Forgotten, che però ingrana la marcia indietro. In questo momento sono partiti! Inizia l'avventura di Walkie Race! Infatti andiamo, che faccio l'ultimo tentativo. No, Gian, ci ho pensato la gara prima di mettere il volante. Ma attenzione! Ora che si fai avanti così, la prossima è la tastiera che ti aspetta. No, no, se... Uh, è interessante! Ti sta già chiamando, c'è una tastiera col nome tuo sopra. La tastiera, Ramos! Tatti Ramos! No, niente Tom, non ho nessun aiuto da Padgett. Non so se questo dietro a me è NU. No, non io. No, ma è perché la Villeneuve mi stava preoccupando. Se stasera succederà qualcosa a Villeneuve con NU, sappiate che l'ha fatto apposta. Eh, io non vorrei dire... Allora, ultimo tentativo. Chi è? Ha ragioniere. Problemi, problemi, problemi? Non abbiamo cambiato le scuderie, ragazzi. Sì, sono buggate le autotera. Con le prestazioni di padre. Perché per 1, 2, 3 è un bel gioco. Ah. Tutto è il motivo. Cazzo. Non bene. Dove è Ale? Madonna, Ale, male. Eh, Ale. Eh, ma è tosta qua, eh. No, comunque, raga, veramente. È l'osca, è l'osca. È la didattica. No, no, in realtà, allora, rispetto a Ale, devo dire la verità. Cioè, Imola la conosco, ma non riesco a tenere le curve. È quella che conosco di più delle ultime che abbiamo fatto, ma Imola c'è sempre qualche curva che non riesco a fare un giro. È l'obbligo del ragionamento che faccio io, praticamente. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Sui motori! Che problema, mamma mia, quanta gente davanti. C'è proprio quel tale ave davanti che mi ricorda qualcosa dei camion. Eh, non benissimo. Comanzotto, si parte con calma. Oh. Che mazzucato. Un po' di gente già subito. Se ne va qui. Non ho portato. Ecco qua. Oddio, vedo mezzini. Oddio, oddio. Oddio, oddio, oddio. Oddio, oddio, oddio. Oddio, oddio, oddio. Eeeh. Maledizione. Dove è passato? Che mamma o se si butta, se la rischia? Oddio, Sergio. Eh, stavo un attimino provando i freni. Porca troia. Non è andato lunghissimo. Ah, è vero. Il bilanciamento dei freni, di Dio. Ecco perché. Buono, molto bene, molto bene. Qua devi cambiare il bilanciamento, un bordello. Oh, mamma mia, mamma mia. Ma con è. Cristian. Oh, ho sempre visto gli Zero cambiare pilota. Zero, sì. Abbiamo fatto cambio pilota troppo presto. Non c'era nessuno a guidare. Oddio, Vanessa. Attenzione. Non è successo niente. Madonna. Con quale lag? Vanessa ha laggata incredibile. Sì, è passata davanti a te dietro, in un attimo. Che paura. Se che probabilmente andrei non era il traccio. Oh, ragione, è un pochissimo. Adesso fai attenzione. Oh, Yuri, ho capito perché laghi pure dall'ufficio. Si è attaccata pure a Vanessa. E ora, è una cosa dell'acqua. Grazie. Guardiamo, sono molto vicino. Moltissimo vicino. Difenditi. Oddio, oddio, oddio. Oddio, oddio. Oddio, oddio. Oddio, oddio. Oddio, oddio. Oddio, oddio. Oddio, è partita un'ala. È partita un'ala. È partita un'ala, l'ho vista. Porca d'ossi. Non è partita solo l'ala. Botto, 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 botto. Un Russell Bottle. Bottle? Ho sentito un bottle. No. Ma Andre? Ma, non lo so, ragazzi, ma io ho visto dei pezzi volare nella prima variante, ma l'altro è un vero finale, eh. Diciamo che avete fatto, come al solito, è bello vedere ragioniere. E lui era ragioniere e io voglio tanto bene perché ho invitato io. Era l'ingegnere. Era l'ingegnere di solito, comunque. Intanto Diego ha pentito degli inviti. Se te pare, ma se Sandro e Lagga... La volta che riesco a fare una cosa, se qualcuno mi era addosso, cioè non c'era la madonna. C'è una volta io non c'entro niente, eh? Ma vedi, eh? Ma non c'è. Mi ha fatto un tempo. Ma ho ragioniere a fare. Ma vanno fuori, ma mamma mia, Sandro e Lagga. E adesso c'è proprio dei punti importanti qua. Do andare avanti con la rotta, per forza. Buona Sam, comunque, quanto la ho. Abbiamo già due punti, in verità. Forse ha Ale, il terzo. Buoni per Ale, che non ne ha Ale, vorrei... Eh no, io sono fuori per ora. Classifica live, meno sette d'Ale. Ma che è davanti, che duello! Ma aggressive! Ragazzi, però non facciamoci malissimo. Oh, veramente. Boni! Eccoci! Oddio! Oh, panna mia, ragazzi! Oh, Mario di traverso! Prova a driftare! E si esce bene, e si esce bene. E si esce bene, e si esce bene! Occhio però qua, bisogna farla stretta. Puoi incrociare Mario! Il cazzo è questo che va per fuori? Scusi? Oh no, Amos! Bel criminalo! No! No, no, Amos, no, 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 porca puttana! Ma con quali cambi? Che trope troia! Cosima, ha fucilato! Che è il proprio di èolo! No, 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 no! È un proprio mio, eh! Che era Vanessa, non io, eh! No, no, ma hai preso tutto all'esterno. Però l'ho tenuta, vai tranquillo! Ah, ok! L'ho tenuta, ma sei stato tu, Vida. Di molto incontriamo sempre. A me piace questa. Che è stata l'aurpa a Vanessa, bravo! No, 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 è tra lì, sempre in giro. è entrato nella variante alta come un missile che ha sbagliato partenza proprio della nasa io non c'ero ma secondo me sta davanista che ragioniamo che sorpasso qui sander o mario ma io tutto posto è una rettone rotta grippi che mamma mia ragazzi riesco a girare ma non è stata e dai quindi non ho toccato dall'esterno però è tenuta meno male ma è tenuta si tranqui tranqui ho visto un oxander alla schumacher contro Montoya prima va così la sprint va la rotta Ale? eh si mamma mia vai 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 punti importanti punti importanti è scassato tutto chi è smanga il tuo davanti a te? Andrea attenzione Andrea ma è crashato poi è un po' un po' problematico no vabbè se ne sei ma mi si può fare 110 no per forza perché non si prende Andrea eh è tutta tattica questa sette punti così si pecca ma cazzo Mario 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 è stato oxander ah è stato oxander eh sì sì io ho visto la cosa gialla è arrivato lunghissima è subito pensami vedi ma la fine no ma è proprio che siete già lì tutti e due mi sono cagato tutto no perché di solito tu lagga all'ultimo giro all'altimo eh madonna qua sono bene pizze qua come come? vi sentiamo in breve Matteo? con tutti questi pizze lirizzi 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 che è dove è mio? e noi gliela riprendiamo e noi gliela riprendiamo e noi gliela riprendiamo i mangi tieniano gran passo sarà molto difficile come gara ultime due curve lui avvocato come mai sei qua dietro? eh c'ho avuto un alterco con l'ingegnere doveva ragionare ormai l'ingegnere era le tue pensieri però eh si si se non c'è lui ci ha pensato e rubare ciao Alessandro porca troia porca troia colala spaccata eh vabbè ma Andrea è migliorato tantissimo dai dai punticino c'è dai nonostante ha scassato tutto ma lei ne ha fatto uno ma lei ne ha fatto uno ma lei ne ha fatto uno io ho riguadagnato qualche punticino perché ne ho persi tantissimi in Australia in Australia hai buttato via tutto si eh non ti è difficile eh ma io non è tosta perché l'importante sarà adesso se non fai altro che ignorarlo se la gara completa Xander non ti perdono eh te lo dico prima cosa qui va bene Diego ti faccio passare la vignota eh si che già me sta preoccupato stai qua per cambiare tutti sti cazzo di tastini di merda eh subito posizione peggiore col menu de bordo eh Andrea uh 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 m'ha toccato io eh ma perché mi ha impiodato no meno male che mi ha spaccato l'alettone ottimo proviamo a fare un giro vediamo e ora Sergio è il più pericoloso di Ale in realtà perché Ale se la sta vedendo brutta lì eh ho spaccato l'ala subito eh eh la madonna oh quanto hertz stai sparato madonna l'ha finito l'herz lag comunque amo io ti devo ringraziare di una roba guardando il tuo guard del war ho imparato tantissimo a conservare l'herz è una roba seria ma anche da tornare qui davanti no quello lo sapevo già fare da solo no però sì sì eh anche troppo io conservo eh però perché mi aspetto che non ci siano setticare cazzate varie purtroppo ma dai diciamo che la situazione è molto differente dai non riesco a sì sì gioco di squadra qua davanti e beh sì anche se non la vedi siamo un compagno di squadra in questo cazzo oh oh mamma mia Sergio di traverso travergio ha 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 dovrebbe entrare perdiamo troppo in realtà io non lo farei io non lo farei io non lo farei manco io faccio di fatti ok è libera inizio a credi c'è le due minacce diciamo ha 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 no anche perché una gara vorrei finirla senza mica addosso nessuno che una volta provare questa emozione mamma mia quando hai frenato eh scusami Dio scusami scusami quanto te mai ne so io che dovrei no Leonardo c'è un po' più attento guarda 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 Mario come c'è tutto tutto io veloce guardalo faccio fatica faccio fatica il DRS disponibile ma si è partito con le M2 l'ho visto sì ahia ma chi è quel doppiato subito lì? io era Iuri ah bolla un nuovo panetto ti prego non fare come in Australia lo cazzo vado ah si è che fantasma non ti preoccupare che all'ultimo giro vado 1 sono un giro dietro maniere gialle Mario Sergio è attualmente libera ah no ah no questa non è la rotta qua non gira ma lì puoi allargare Ale eh no ma con la lara rotta non gira a sinistra non gira ormai sto facendo affini fatica oh che entrata in drift dai stefanino che male che male cina attenzione ok 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 mamma mia tirata non parlano davanti eh no ando dietro è dietro no ando dietro guardiamo ok hai perso una posizione ma restiamo concentrati ma il giro è un po' grave però eh che zoni ma l'orza ci manovano la vinnev no sconsigliato eh ma è tosta ma che ha scassato è pure un brigadio 15% le gomme ok ma cosa è bella è che i juri stanno andando a cannone voglio eh ecco l'è già scritta M4R da qui eh sì ops ok Sergio prova ma perché abbiamo messo due le dure quindi eh sono difficili in questo momento molto Sergio mi preoccupa Sergio mi preoccupa Sergio mi preoccupa non ti preoccupare grazie Antonio no era NU era NU sì un po' di differenza di voi sì non mi pare proprio uguale diciamo è che son concentrato è certo che fai bene prima hai salutato oggi? tutti tutti il pilota davanti guadagna un secondo a giro sui oh 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 andiamo ma adesso andiamo oh Mario lì si affaccia oh tutto la pressione avanti due virgola sei secondi E passano 1-2 1 No scusa Pier Vai vai No vai vai Non ha Scusa Pier Non ti preoccupare Grazie Fede benvenuto Ben ritrovato Recuperiamo dai Mario molto temibile Se lo lasciamo solo Quasi sono onorato No è Ho frenato un po' di più E non sono riuscito a A spostarmi Eh ho fatto girare la Pier Attenzione Meraviglioso comunque Pier è sempre incazzata Arriva al contatto con quel tagliale Va bene Guarda che ci colpiamo sempre Sì effettivamente sì Deveva farlo più forte Arrivo veloce Arrivo veloce Perché non tiene un cazzo Non tiene un cazzo Ero all'interno Ma come penalità Ma sono messo pure la Cristo Santo qua Vabbè Eh no mi devo fermare Perché non Non tiene proprio Pure per quello T'ho Beccato Poi approfitti La gomma dura ragazzi È un Vai 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 La media è peggio La media è già morta Già è morta Non sto in pista Ragazzi è tutto Sì sono d'accordo Ma comunque il direttore Cazzo fa il suo rosse tu Sono al 37% Sto girando in 19 Abbiamo un'ultima sosta Della nostra strategia Ma adesso Questa è l'attore giusta Perfetto Andiamo Oh Mario Oh Mario Oh Mario Oh Mario Vediamo Oh mio dio Dio Vai vai Abba Tora mi arriva Viego il carico Qui Devi utilizzare Il tuo passo Più spesso L'avvocato Passa in testa L'avvocato è truccato C'è qualcosa che non va Non ho bevuto la conga strong Ma dopo il box La baby Non ho il doppio Non ce credo Avvocato Ma dai Ok entrare in pista La senti cari in pista Raggiungi il gusto Avvocato 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 Si ha tamponato Vado Passa 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 Vado 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 Ma cambiamo sta Io sono l'unico stronzo Che adesso ha la media Per 22 giri Che bello Ma in realtà pure io Lascia fare No ma io poi la devo cambiando Cazzo vado con questa Nessuno è rimasto in pista Io sono rientrato Diego non credo Io avevo fatto il pit Prima della safety Pensato che culo Poi vediamo Ma vediamo Ma ti metti in griglia Fatto ti ritiri E adesso c'è Il pit Tu edi Sam ringrazia che non te sento Perché c'è il microfono basso Perché una notte tiravo una testata da qua La minchiorà Nemmeno l'ho sentito Sam Ale comunque non so partiti Potevi andare No no ci sto Cioè mo vediamo se me la fa scontare Che cazzo Secondo me non lo so Sì sì ok Mi sembra di sì Cioè mi sembra sì Ma è entrato tutto il team sportiveggiante Sì sì Attenzione Per chi sa Oh fai attenzione alle gomme adesso Devi finire la gara con il ferro attuale Nooo Ma che fate Che successe Sto cazzo di bot Non so no no non sono un bot Devo far ripassare Devo far ripassare No ma ho dato proprio del bot Ho capito che gli stai giocato Eh ma pure Ma state attenti ragazzi Ma prima di un bot Agia Andrea Bara quando non lo guardavano mette il bot Sì sì Ma che vi giuro che prima era un bot Let's go Si riparte Se non faccio 7 pit stop a gara non sono Eh sì adesso Cazzi di penalità Super focus Solo siamo in una posizione Attenzione qui davanti Eccolo E' morto lì davanti Io Scalato un silenzio surreale No Eh ma sulle hard Se non stai attento E fu le hard Oh Amos dentro No Vimper Come successo? Ho perso l'ala In uso Mamma mia ragazzi Mamma mia Eh Pierre Sono dietro di te Allora te lo dico Qualunque cosa succeda Non lo volevo fare A me fonda pure bene Ditto ma devo arrivare davanti a Sergio Tanto Mario se ne va Mario si Mario si Vabbè dai siamo rimasti tende Lo fai sembrare facile Io ti voglio bene ma Assassina Sembra dichiarazioni d'amore a Vanessa No ragazzi Non mi sono notato da tanto bene scusate Uno è 4 Uno è 5 Uno è 2 Uno è 1 No si avvicina sotto al secondo Amos no No ma l'ho sangri Io quel cadere Il tuo che cazzo sta succedendo Oh Sergio la perde quasi Il doppio del DRS Che cazzo è una Red Bull a quel cadere Dai dai che la zona Munti è fattibile Dai Non succede niente Non ti preoccupare Quanto cazzo vai lagga Il qui Eh ma come c'è un drop Stiamo raggiungendo la retrofondenza Ma se deve soperà Attenzione Ma se c'è un boom dai box Oddio Siete dei missili sul dritto Ma come cazzo allora Ma l'hanno qui E' perché tu stai lampeggiando Non so perché Attenzione Sergio prepara forse un attacco Difficile Oh Grazie Grazie Eh lo so Lo so Tirma Di vostre Ma dobbiamo anche tenere d'occhio le gomme Non faremo un'altra sosta Il dritto Sì infatti Non si è piaciuto È vero Tanto Ale Ti rimonta in quinta posizione Sì Ale Lo vedo Che è smugato qui Eh però Non so se durano le gomme Che le ho cambiate Grazie Non so se me Ti hanno Mette scuse a caso adesso Per cercare di non Avvalorare la tesi della sua rimonta Drs con drs uguale Non aveva il triplo Non aveva senso questa cosa Ho visto Ma è Ma secondo me Perché io ero quanto più vicino a te Rispetto a Anche l'est Ah ma come vai Con le gomme Non le sentisci volare No al momento sono buone Fatti i cazzi tuoi però Infatti quel boom era suonato strano Ti pare che non sa come vanno le gomme E non te lo vuole dire Ale a 1 e 2 qua dietro Eh ragazzi Spezzatemi Eh ma tanto arrivi C'è lagga che è Non mi pare pure che ti aspetta Non arrivi comunque Non stiamo utilizzando troppo Il nostro ritmo No in realtà sì Perché lagga va fuori E con le due sempre Perché gli dà Andate forte Yuri Yuri Andrea Is faster than you Può finire male in mille modi diversi Sta cosa Bello Mamma mia Sono mangri Mamma mia È arrivato Siamo in 5 adesso Datemi un po' di drs Un po' di respiro Mamma mia ragazzi Come andate Come andate Bello bello Dio 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 Dove va la macchina La macchina perde fuori 5 auto in testa E fanno il vuoto E fanno il vuoto Ma il vuoto è manco troppo Con due secondi Mamma mia Attenzione L'ho tenuto in casa Alfa Tauri Oddio Amos No Amos Cristo No Non avevo dove andare Oddio No Non Non so Bella mossa Ma non avevo dove andare No Non era una situazione facile No Annalzio Sicuramente mi devo fermare Eh sì 22 e 32 Se c'è delle gialle nuove No Ricordi No Si Si è entrato un po' Di vabbaglossi Stavo a vedere Il danno ala Meno male me la riparano Il distacco dalla vettura davanti È 1,5 secondi Stavo cercate di fare l'agganciamento Prego No Non c'è proprio senza Non riesco a capire Quando Non c'è proprio senza Non c'è proprio senza Non riesco a capire Quando Saliamo su Per andare a vedere Finalmente Sto tranquillo Mentre dietro Vedo lui Vicino Alexander Ok Va bene Eh ragazzi Non mettiamo davanti Con le immagini Con le immagini Eh ma sono morte le gomme Sì hai detto pure 20 giri fa Eh erano morte pure me Cioè dopo un po' No è più credibile come scusa Adesso Inizia a vedere C'è una cattivar Eh ragazzi ho commentatore da quando ho sparmato la macchina addosso al muretto Perché se io mi fermo Il bot dell'F1 dimenticata mi superano Sì ma è che i bot vi hanno punti in vale raga Io non sono un bot Porca troia raga Io Adesso La seconda volta C'è che è nessuno Andre devi portare le prove Se fossi un bot sarei primo Dai guida in playback Faccio vedere che sei tu Allora Marco Ale è molto vicino a Smangri adesso E poi ci vuole un pato track davanti Dai Dessi la noia tra di loro Pidio Forza Tanto si sente la sportività di Nu Che spera il bene degli avversari Non muore Ti provo, sono al 48% al momento Ma il Gen good vari io sto a 58 è ancora sottilata Avvisami quando è il momento Qui alla prima S Esce forte tu dire Livast oi non viene giallo creduto a posto se vorrebbe qualcuno spera in una serie di carriamo spaventare iuri cambiare già alle settore 2 attenzione a tre giri dalla fine e questo è grande gli ha fatto la findus attenzione è perché comunque ragazzi ovvio se avete 20 secondi il vantaggio ma non ce l'ha però abbiamo carburante a sufficienza ma perché iuri è un bot no no ci sono ci sono tanto xander dà dei bot a tutti portano gli insulti toccante si ribatte attenzione si ribatte ma aveva dato un giambanghera merda boh ma che cazzo di scannesto eh smangheri se l'è portata a casa attenzione 3-6 M esce fortissimo va superale andiamo a scontare stato rettru stagli sotto appena fa un errore ci riprendiamo la posizione intanto che spunto al 3-2 è stato interno all'8 no ovviamente ma già sono doppiato non ero doppiato mamma mia come lo vedo male lo smangheri davanti cazzo di spiga però non ci ha aspettato la city eh oddio smangheri che sta a fa' io non ero doppiato oddio addio addio no iuri è stanno succedendo cose qui davanti no mostrati che pasta sei fatta scusa scusa ho bloccato che succede ma c'è che scusa se ho bloccato tranquillo 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 che non me li sconta sti cazzo che cazzo che cazzo che cazzo mi entra in corsale tanto mamma allora io vado dritto squalificate esce male Mario attenzione attiviamo la posizione dai 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 sei comunque il nuovo muro alle prova esterna non ho capito c'è giù in mezzo sottorelli ultimo giro ultimo giro merda tanto c'è Vanessa molto vicina e calma va in questa gara mentre Ale sta appiccicatissimo a Mario attenzione perché qui in primo punto fa differenza cioè per una posizione fa differenza lo faccio il dretto è stato il campionato non me lo faccio io dai smangri duello tra smangri e Sam duello non ho capito scusa sì duello penso a Sam che sta lì in seconda posizione e quindi è contento peccato ragazzi mi sento dire al settimo giro è finito già oh madonna che laggata come è finita è finita è finita è finita raga ci sta signore ci sta ci sta ci sta mi dispiace viva lo sport è dovuto tirare l'ipo un certo punto è dovuto tirare l'ipo un certo punto il nostro corso è dovuto tirare l'ipo